bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re del registro cancelito 1 farò la recensione di un film del 1959 diario di un ladro michael impara l'arte del borseggiatore arrestato viene rilasciato per mancanza di prove ma l'ispettore di polizia non molla e non aspetta altro che coglierlo con le mani nel sacco il mio voto a questo film è 7 ho dato questa volta perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto decine del film l'interpretazione della sceneggiatura e di genere giallo la durata è un'ora e 16 minuti il regista è robert bresson la regia è buona bravo regista paesi di produzione francia l'attore è martin lassalle bravo attore nel film anche marika green agnes dell'ail dolly scal cassaggi pier leimer henry cassaggi pierre etaix cesar gattegno jean pellegrini dominic zardi saluto anna samobrina cita aliciotola marcolf mariuccia pia domenico leo tassoni bulloni ivan drago michele tregiliani favij picchiatore etelifane 122 mr bike tv il trio medusa guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo video vi sia piaciuto